L'avvocato Aldo Casalinuovo decide di fare un passo indietro e di unirsi alla campagna elettorale del centrosinistra a sostegno della candidatura a sindaco di Nicola Fiorita. A sancire la ritrovata unità nel campo progressista il responsabile antilocali del PD Francesco Boccia, di nuovo a Cadanzaro insieme al coordinatore regionale del partito Nicola Irto. Nicola Fiorita e Aldo Casalinuovo sono l'immagine più bella del movimentismo, della partecipazione, della rottura con il passato e del riformismo, della serietà di chi si assume la responsabilità di entrare nelle amministrazioni pubbliche e di cambiare nel nome delle istituzioni. Oggi la presentazione del sostegno di Aldo Casalinuovo a Nicola Fiorita dà proprio questa sensazione. Credo che ci voglia un centrosinistra compatto, io ho sempre detto che la mia era una candidatura civica che però era nell'alveo del centrosinistra e quindi questa è una decisione conseguente. La frammentazione non giova a nulla, nemmeno alla completezza delle proposte che si vorranno fare. Credo in un centrosinistra forte che secondo me è la vera alternativa al centrodestra, non per un fatto così tra virgolette ideologico, ma se fino ad oggi abbiamo avuto una compagine di centrodestra che ha amministrato la città e noi vogliamo costituire alternativa a questo, l'alternativa non può che essere una compagine di centrosinistra con una chiara impronta civica. Questo è un momento molto importante perché Aldo Casalinuovo è una figura autorevole della nostra città che ha perseguito legittimamente un percorso molto chiaro, trasparente, lineare e che ha deciso di mettersi al servizio del bene della città. Un gesto di grande generosità che apprezzo e che dà molta forza al nostro progetto. Nel corso della conferenza non sono mancate le critiche all'indirizzo di Valerio Donato, uscito polemicamente dal PD ed ora candidato a sindaco alla guida di una coalizione civica alla quale guarda con interesse anche il centrodestra. Sono umanamente deluso perché questo succede nella vita politica, soprattutto dentro una comunità politica. avrei ovviamente mantenuto questa delusione ma rispettato la scelta se fosse stata una scelta civica. Invece mi pare che una scelta che va a destra e questo mi lascia molto ma molto amareggiato perché questa destra e Catanzaro è tra le peggiori destre d'Italia. Poi i risultati li vedete voi qui che ci vivete ma al di là dei disastri fatti all'amministrazione di Abramo qui c'è la necessità di una bonifica profonda di gruppi di potere che hanno messo le mani sulla città e quei gruppi si stanno nascondendo dietro questa candidatura e questo ci fa male. In più mi pare che la destra stia andando lì, quindi significa come ricordava Nicola Irto poco fa che non c'è un elettore di destra, un militante di destra che alzi la testa e rivendichi con orgoglio la propria identità.